Ehm, ok, forse ci siamo, non capisco, ogni giorno, e quindi si blocca, mi sentite? Mi sentite ragazzi? Spero che si riesca a sentire qualcosa, ciao Nieves, ciao Teresa, ciao Franco, ora va meglio, non riesco a capire quale sia stato il problema ragazzi, scusatemi, ciao Gisella, ciao, ciao a tutti, bene, bentornati su una nuova live, in diretta dal mio canale Agape Bijou, e dal mio studio, che è la mia stanza ovviamente, oh, ciao Lara, Ioana, ciao, un bacione, bene, sono felice di vedervi tutti, Manuela, un bacione, e appunto sono contenta che siate in mia compagnia, spero che la connessione non mi dia problemi, perché vedo che ogni tanto mi dice connessione pessima, però non riesco a capire come mai ci siano questi problemi. Allora, ciao Lilli, Lilli ciao, è la prima volta che ti leggo, benvenuta, allora sono tornata appunto dopo il weekend di pausa, nel weekend abbiamo fatto appunto una pausa, io sono stata fuori, per chi è iscritto al mio gruppo, appunto sabato ha visto il mio videomessaggio all'interno del gruppo, invece ieri sono stata a Matera, che è una città bellissima, mi è piaciuta tantissimo, e sono molto molto contenta di averla vista, purtroppo non mi sono potuta trattenere tanto, però comunque l'importante è andare, insomma, a quello che si può. Ciao Marina, Teresa, sì, devo dire che già la mia città è fantastica, quindi sabato c'era un sole pazzesco, oggi come vedete sono di nuovo, e in pratica l'altra settimana, cioè l'altra settimana ero a mezze maniche, adesso insomma siamo a maniche lunghe col maglione di nuovo, come sapete appunto io sono fissata con questi colori, e lo so, vicino a casa tua, non lo sapevo in realtà, cioè non ho detto lo so, ma non lo sapevo, e quindi ciao Lorella, benvenuta, Allora, quindi ragazzi, ditemi però come mi vedete, come mi sentite, perché qui YouTube mi dice connessione pessima, non vorrei che appunto cadesse la connessione all'improvviso, e mi dispiacerebbe molto, quindi ditemi, ditemi un po', datemi un feedback. Allora, oggi so che molte di voi mi avevate chiesto un video di perline, però purtroppo non ho potuto preparare nulla, Allora, si vede male? Si vede male? Anche per gli altri, perché altrimenti la riavvio, la riavvio? Che dite? Riavvio la live? Mi seguite? Alessia, ciao! Un bacione grande! Alessia è una mia compagna di classe del liceo, quindi mi fa tanto piacere che mi segua, che si arriva. Lascio? Ok ragazzi, nel caso cada, appunto, io la riavviero, sappiate, no? Tesoro, un bacione grande! E quindi, niente, se vi vedo tantissimi, siete tantissimi. Allora, la prima cosa che dico sempre, mi raccomando, cliccate mi piace sul video, se vi va, se il video vi piace, se vi piacciono le dirette, se vi piace questa cosa che io faccio alle dirette il pomeriggio, se vi piace stare in mia compagnia, per qualsiasi motivo, ci sono mille motivi per lasciare un mi piace al video. Quindi, se non siete iscritti al canale, poi iscrivetevi, ovviamente, è inutile che ve lo dica. E stiamo andando a confie, risalta, salta e va e viene, non riesco a capire perché. Dicevo che il mio paese ha circa 18.000 abitanti, mentre sul canale siamo 29.000. Quindi, è un qualcosa di strepitoso, io non riesco nemmeno a spiegarmi come sia. Però, è semplice quello che mi piaceva. E niente, continuano ad esserci problemi, ragazzi, provo a riavviare, che dite? Provo a riavviare, non mi piace che un tempo debba andare così a singhiozzo. Quindi, termino e riavvio sul canale, ok? Mi raccomando, non andate via, non andate via.